ciao ciao a tutti benvenuti sul mio canale 10 giorni a natale ragazze ho realizzato ora stavo guardando il calendario mi sono detta ma oggi è 15 quindi manca veramente pochissimo non me ne sono resa conto sarà che le prime le prime due settimane di dicembre li ho passate come ben sapete a casa tra mio figlio malato e poi successivamente io quindi insomma ora sto cercando di recuperare il più possibile tutte le cose retratte ho finito ho finito di fare tutti i regali di natale di mio figlio della letterina devo dire grazie anche a signora amazon per questo perché mi è venuto in soccorso in quelle settimane in cui ero a casa e quindi ho comprato praticamente tutto su amazon perché poi avevo paura di non riuscire a trovare niente e oltre alla paura di non riuscire a trovare niente ragazzi io devo dire la verità che odio la calca l'ho sempre odiata la calca la calca della gente gli ultimi giorni di natale devo dire che dopo il covid dopo tra virgolette perché insomma viaggia ancora tra noi però ho ancora di più l'ansia della folla devo dire che mi ha lasciato un po questa cosa come come il regalino il covid ma so anche a tantissime altre persone e quindi cerco sempre di evitare insomma la calca delle persone della corsa al regalo la corsa alla spesa proprio dell'ultimo giorno quindi insomma sto già iniziando a fare a comprare qualcosa e a mettere via fortunatamente i regali di mio figlio li ho già messi da parte li ho finiti tutti depennati tutti babbo natale anche quest'anno è stato bravissimo e quindi insomma posso tirare il sospiro di sollievo e manca il regalo di mio marito e poi ho concluso anche io con i miei acquisti natalizi io vedo già un po troppo traffico in giro settimana prossima possiamo ben immaginare che cosa sarà vi segnalo vi segnalo per chi me lo aveva chiesto settimane fa penso che oramai lo saprete lunedì lunedì ragazze tenetevi forte perché questa notizia scatenerà il panico ci sarà da lidl la cucina in legno quindi ho paura io credo che non ci metterò piede ora non vado da lidl da un bel po non sono andata per niente questi giorni ora vediamo se riuscirò a passarci domani ma da lunedì troverete di nuovo la cucina in legno con altri accessori per la cucina in legno come la macchinetta per il caffè il tostapane la pizza quella che si ricompone la torta quella con le candeline insomma chi chi segue lidl da anni come conosce benissimo le cose di cui sto parlando ci sarà anche tra l'altro la casa delle bambole ma non quella piccola che è stata presentata la scorsa settimana ma quella grande da 99 euro con gli accessori all'interno quindi scatenatevi so già che cosa ci sarà l'anno scorso mi ricordo che era dovuta intervenire la sicurezza il giorno che erano erano uscite fuori le cucine chi riesce a prenderla insomma noi abbiamo praticamente tutto io se riesco ad infilarmi ma senza litigare con nessuno vorrei riuscire a prenderli il tostapane perché mio figlio è un appassionato di cucina da quando era piccolissimo quindi alla cucina alla pizza a tutti la frutta la verdura quelli che sono presenti anche quest'anno tra l'altro che si attaccano col velcro e poi si dividono col coltello alla macchinetta per il caffè e gli manca il tostapane che tra l'altro ho visto nel nel volantino e mi hanno detto guarda mamma il tostapane non ce l'ho quindi se riesco se riesco lunedì magari gli prendo il tostapane se non ci riesco pace bene ragazze divertitevi e insomma se riuscite a prenderle sapete che fate dei buoni acquisti e vi avviso che è aumentata di 5 euro quindi da 49 euro che è sempre costata quest'anno costa 55 euro così come il messier cuisine che vi ho fatto vedere nello scorso svuota la spesa noi l'abbiamo preso l'anno scorso ci sarà da domani è l'anno scorso l'ho pagato 29 90 quest'anno costa 33 90 o 34 90 insomma qualcosa del genere stop partiamo subito vi faccio vedere che cosa ho preso da conad e da euro spin sono andata in entrambi i posti in realtà da conad volevo solo curiosare era da un bel po che non andavo e volevo solo dare una sbirciatina infatti non ho preso granché però insomma ve lo faccio vedere così come al solito condividiamo non mi sono lasciata affascinare da niente in particolare devo dire che forse non c'era proprio niente che mi affascinava in particolare lei però mi ha affascinato immancabile barattolone di nutella natalizio lo compro tutti gli anni ora non li potete vedere perché sono su in alto nella cucina ma ho tutti i barattoli natalizi conservati perché mi piacciono tantissimo quindi ogni anno lo compro e quando poi è finito lo lavo bene e lo conservo perché mi piacciono molto era in offerta 4,95 barattolone da vasetto non barattolone vasettone da 900 grammi quindi insomma anche un ottimo prezzo se pensate che il bicchiere costa 3 euro e sono 200 grammi è molto 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 carino anche quest'anno con questa trama natalizia tipo simile maglione natalizio mi è piaciuto veramente tantissimo e quindi niente l'ho presa l'ho presa perché a casa mia non deve mai mancare la nutella perché mio figlio una volta a settimana ha come premio il venerdì quando finisce la piscina come merenda al panino con la nutella quindi a casa mia la nutella non deve mai mancare e poi l'ho presa perché sono l'addetta ai dolci tutti gli anni per le festività natalizia da quando mio figlio celiaco poi ancora di più perché faccio tutto senza glutine così non ci poniamo il problema nel senso che così mio figlio può mangiare quello che vuole e farò il tronchetto natalizio oltre ai biscotti natalizi e quindi insomma la nutella mi servirà e poi andiamo tutti di tisana digestiva che comprerò nei prossimi giorni per tutta la famiglia poi passiamo dalla nutella la marmellata dietetica così perché altrimenti ci annoiamo a mangiare sempre le stesse cose sempre queste cose dietetiche no noi noi sbalziamo da una cosa all'altra ho preso per la prima volta questa marmellata light senza zuccheri aggiunti con il 75 per cento in meno di calorie rispetto alle confetture più tradizionali sapete che io compro sempre la marmellata dell'euro spin però la mia nutrizionista mi è un po bacchettata no in realtà non mi ha bacchettata ma visto che ne faccio abbastanza uso la mangio almeno tre quattro volte a settimana la marmellata colazione perché la mangio nelle fette biscottate la mangio nel pane tostato e la mangio anche una volta a settimana nelle crepes ovviamente alle crepes una ricetta bilanciata data da lei e io ci metto la marmellata dentro e quindi mi ha detto di provare con una marmellata meno zuccherina e allora mi sono orientata su questa perché mia nipote diabetica e utilizza questa mi ha detto che buonissima avevo già provato tempo fa quella della rigoni che è fatta con il succo di mela per dolcificare però ragazzi non mi era piaciuta per niente quindi insomma quella l'ho bocciata ora vedremo un pochino questa ho preso questa qua di ciliegia nere perché a me la marmellata piace solo di ciliegio di albicocca albicocca non c'era c'era frutti rossi c'era pesche e poi c'è la ciliegia nere fatemi sapere se l'avete già provata e come vi siete trovati e io la proverò sicuramente domani mattina per colazione e poi vi farò sapere poi altra cosa che prendono sempre la conad sono le piadine sfogliate con farina integrale sono quelle che preferisco tra tutte quelle che ho provato integrali devo dire anche se le mie preferite rimangono quelle che vengono proposte ogni tanto da little quelle biologiche integrali però non essendo in linea permanente spesso e volentieri insomma rimango senza queste sono molto buone non è una cosa che consumo abitualmente le tengo in dispensa per le emergenze quando capita qualche volta a pranzo al volo oppure la domenica sera con mio marito a volte non abbiamo voglia di mangiare chissà che cosa e ci facciamo una piadina e queste sono buone devo dire che sono un buon compromesso costano un euro all'interno ce ne sono tre prima o poi le preparerò io prima o poi prima o poi le farò io promesso però non è oggi quel giorno poi che cosa ho preso questi ve li faccio vedere sempre quando vado alla conad e ve li segnalo sempre sono dei dolcetti al cocco senza glutine mio figlio mio marito ne vanno pazzi ripiace e piacciono tantissimo se li litigano quindi ogni volta che vado mio figlio richiama cocchetti ogni volta che vado e li prendo e così li hanno in dispensa ogni tanto dopo cena hanno voglia di dolce e e si mangiano questi costano un euro e 60 se non ricordo male non li ho mai fatti in casa in realtà ho visto la ricetta ed è veramente facilissima serve alla fine di servono pochissimi ingredienti quindi voglio provare a prepararli in casa poi magari vi farò sapere una novità almeno per me è la fila del fia protein con l'undici per cento di proteine solo 2,5 per cento di grassi non l'avevo mai vista voi direte ti compri la nutella e poi ti compri la fila del fia proteica sì perché limitiamo i danni l'ho presa perché l'ho presa perché era prevista è previsto è previsto ho deciso di fare un antipasto per natale che prevede il formaggio spalmabile dovevo in realtà prenderlo all'euro spin però ho visto questa che era in offerta un euro e 15 alla cona ha detto ma sì vediamo un pochino com'è tra l'altro da questa questa confezione rosa fu sia mi piace tantissimo fatemi sapere se voi l'avete già provata e poi ultima cosa che vi faccio vedere no non è vero non è l'ultima cosa una novità che vi faccio vedere di conad è questa ho trovato questo preparato per il porridge della cameo pronto in tre minuti contiene solamente la farina d'avena i fiocchi integrali di avena latte scremato in polvere vaniglia e sciroppo d'agave in polvere è praticamente per preparare il porridge più velocemente possibile dovete solamente aggiungere praticamente 100 ml di latte caldo o bevanda vegetale insomma oppure anche l'acqua se lo preferite mi ha incuriosito tantissimo perché danni di i love make up se non la seguite andate a seguirla perché lei oltre a essere carinissima vi dà un sacco di spunti per ricette dietetiche bravissima pubblica sempre i porridge su instagram e porridge che si prepara a colazione e quindi questa cosa meno io non amo il porridge perché mi dà fastidio l'effetto pappetta vi dico la verità anche i cereali ad esempio devono essere quei cereali che tengono bene rimangono croccanti perché si diventano mollici nel latte io ragazzi gli schifo non ce la posso fare lo so sono un po delicata quindi il porridge non mi ha mai fatto particolarmente impazzire ma come li prepara lei sono super invitanti perché ci mette a volte il cioccolato fondente a volte ci mette la un cucchiaino di crema al pistacchio all'interno insomma anche le sue sono tutte ricette bilanciate date da una nutrizionista e quindi mi ha attirato tantissimo tant'è che ho detto mi compro i fiocchi d'avena e vi preparo il porridge perché mi sta facendo venire il desiderio e ho trovato questo che è velocissimo da fare perché sappiamo che comunque il porridge deve ha bisogno di un pochettino più di tempo per essere preparato e ho detto ora prendo questo così vediamo un pochino se mi piace il porridge se scopro dopo tanti anni che è una cosa che mi piace e poi nel caso tornerò ai fiocchi d'avena e lo preparerò io fatemi sapere se li avete provati e poi io vi farò sapere com'è perché insomma è pratico pronto in tre minuti non contiene all'interno niente di particolare si può fare anche al microonde tra l'altro quindi insomma mi è sembrata una cosa carina ovviamente costa un euro e 25 questo quindi insomma comprate fiocchi d'avena a non finire però vabbè insomma poi ho preso senza glutine il panettoncino al cioccolato della bauli questo qui non l'abbiamo in realtà mai provato perché mio figlio non impazzisce per pandori e panettoni però io ogni anno anche se a lui in realtà non piacciono e non lo richiede e ogni anno gli compro sempre un'alternativa in modo che se a lui dovesse venire vedendo magari noi che lo mangiamo il desiderio di mangiare qualcosa abbia comunque la sua alternativa a disposizione perché odio dovergli dire no amore a questo non puoi mangiarlo è una cosa che veramente mi fa mi fa un po male quindi dove posso ovviamente poi fuori casa è capitato però dove posso cerco sempre di tappare e quindi gli ho preso questo che anche senza lattosio tra l'altro l'ho pagato 2 euro e 40 2 euro e 50 qualcosa del genere io l'ho preso con le gocce di cioccolato perché insomma così magari se gli viene voglia è un pochino più attirato bauli solitamente è sempre una garanzia e quindi insomma questo ve lo segnalo per chi ovviamente ha necessità di mangiare senza glutine e poi ho preso questa questa è in realtà una riconferma perché l'abbiamo presa svariate volte la paura in realtà la propone tutto l'anno nei negozi specializzati la trovate tutto l'anno alla cona della trovate solo in questo periodo è questa torta a ciocco ragazze buonissima c'è sia al cioccolato che al limone se non ricordo male o classica forse al limone è veramente buonissima e sofficissima noi l'abbiamo comprata all'anno scorso a natale se la sono fatti fuori in un attimo molto più buona tra l'altro di quelle classiche torte che si vendono che non senza glutine insomma quelle quelle classiche che troviamo nei supermercati in questo periodo insomma anche in offerta ad un euro e 99 questa è diecimila volte più buona quindi anche se non avete problemi col glutine ve la consiglio perché è veramente veramente buonissima anche da portare come dolce se dovete andare a pranzo insomma la cena da qualcuno durante le feste vi assicuro che piacerà a tutti perché è veramente ottima l'ho pagata la cona da 5 euro e 90 se non ricordo male nei negozi specializzati la pagate decisamente di più costa sugli 8 euro però devo dire che buonissima quindi insomma per chi ha necessità di mangiare senza glutine ma anche no nel senso che è buona comunque ho finito in realtà ho preso un altro paio di cose da cona demand insomma niente di particolarmente importante è uno spin spin dovevo prendere principalmente l'acqua che però ho in macchina e ho fatto ovviamente un giro che cosa ho preso da euro spin che cosa è tornato da euro spin da euro spin è tornata lei la crema al pistacchio della linea le nostre stelle e come tornata è tornata migliorata perché esattamente come quella di lidl è tornata con il 45 per cento di pistacchi rispetto a prima che ne aveva insomma al venti qualcosa del genere lo trovate scritto qua ora non lo vedrete mai ma vi assicuro che c'è scritto sono andata siccome ho ancora il barattolo di lidl che questo sono andata a curiosare perché insomma mi ha incuriosito il fatto che il barattolo fosse praticamente identico con la differenza che qui ci è scritto 45 per cento di pistacchio c'è scritto qui davanti e dietro c'è scritto appunto che erano prodotto nello stabilimento di viale kennedy zona artigianale cappannone 2 bronte quindi insomma stiamo parlando di ovviamente pistacchi di bronte tra l'altro poi di questa vi farò la recensione ma neanche a dirvelo ragazze e quindi sono andata a vedere perché ho detto vuoi vedere che sono prodotte nello stesso stabilimento nello stesso posto no non sono prodotte neanche nello stesso posto però insomma anche anche euro spina esattamente come lidl si è migliorata 45 per cento di pistacchi pistacchi come primo ingrediente ovviamente e quindi ovviamente non potevamo assolutamente non prenderla 2 euro e 99 anche questa sono sempre 190 grammi esattamente come questa di lidl poi insomma alla fine delle vacanze natalizie magari faremo un paragone vedremo un pochino qual è quella che che ci è piaciuta di più ok però secondo me non si può assolutamente non prendere poi altra cosa novità di euro spin sono i rotoloni guardate che belli e i rotoloni di carta da cucina vediamo se riesco a farveli vedere bene perché ci sono tutti i disegni qua guardate anche qua ci sono i dolcetti qua ci sono vedete qua ci sono gli alberi di natale sono veramente bellissimi tra l'altro ragazze guardate quanto sono grandi sono enormi infatti appena li ho visti ho detto no devo prenderli assolutamente perché insomma la carta da cucina la utilizziamo tantissimo e poi questi sono proprio belli 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 consistenti 1 euro e 99 due rotoloni così devo dire che sono assolutamente soldi ben spesi poi non so voi ma io la carta da cucina ne utilizzo veramente tantissimo quindi secondo me assolutamente da prendere poi mi è cascato tutto ragazze tutto aspettate un attimo eccomi sono tornata che cosa che cosa ho preso poi ho preso in offerta questi gamberi argentini sapete che io non compro carne e pesce nei supermercati perché no perché non compro carne e pesce nei supermercati però questi gamberi argentini di euro spin li compro tutti gli anni ragazze perché sono veramente ottimi quindi mi sono sempre trovata bene oramai sarà questo sarà già il quarto quinto anno che che gli acquisto mi sono sempre trovata benissimo quindi io li prendo sempre sono in offertissima ora a 7 euro e 99 la confezione da 800 grammi o li prendo li metto in freezer se poi l'anno scorso ad esempio li ho fatti per natale piacciono sempre a tutti veramente tantissimo non hanno assolutamente niente da dire sapete benissimo quanto io sia vado solo in macelleria in pescheria comprare pesce carne infatti spesso e volentieri qualcuna di voi mi chiede ma perché non vediamo mai pesce carne semplicemente perché non la compro nei supermercati però questi ve li consiglio perché secondo me sono è veramente un ottimo prodotto tra l'altro ad un prezzo veramente bassissimo infatti ho visto che stavano andando a ruba li metto direttamente direttamente in freezer anche se caldo non c'era poi che cosa ho preso solito oramai immancabile lo sapete filone a fette con farina di segale questo ve l'ho consigliato tantissime volte poi ho preso american sandwich questo per mio marito che gli piace tantissimo me l'aveva consigliato una di voi non ricordo chi e devo dire anche super super promosso in offerta adesso trovate la crema colorante per i capelli da 2 euro e 29 invece di 3 euro e 29 quindi ovviamente ma la sono portata via sapete che io la adoro la la tinta dell'euro spin per me la migliore in assoluto tra tutte quelle che ho provato sia low cost che molto più costose quindi ogni volta aveva consiglio ho ripreso questi che vi ho fatto vedere nel video dei finiti il burger l'altra volta ho detto hamburger in realtà non sono hamburger ma sono burger e basta il burger 100% vegetali della linea fiordi natura che a me sono piaciuti tantissimo vi ho detto che mio marito ha storto un po il naso però a me invece sono piaciuti quindi li ho ricomprati 2 euro e 49 perché sono veramente leggerissimi e quindi insomma non ho potuto farne a meno ho ritrovato gli snack al parmigiano reggiano dopo ogni tanto ricompaiono è ovviamente me li porto a casa 2 euro no non me lo ricordo più quanto li ho pagati 2 euro e 39 mi sembra di sì 2 euro e 39 all'entrata all'inizio sto cercando di andare veloce perché ho visto che sto parlando da 22 minuti e mi sto un po impappinando con con la lingua partiamo di nuovo ho ritrovato sono ricomparsi gli snack al parmigiano reggiano 2 euro e 39 all'interno ce ne sono sette pezzi se vi ricordate avevamo anche visto lo stabilimento sono gli stessi di quelli parmareggio prodotti nello stesso stabilimento con la differenza che quelli parmareggio sono 5 all'interno della busta e costano 2 euro e 70 2 euro 80 dipende dai dai supermercati quindi insomma state comprando lo stesso prodotto se li trovate prendeteli perché assolutamente ve li garantisco poi che cosa ho preso ho preso eccomi qua solita mozzarella questa so che tantissimi di voi hanno iniziato a prenderla da quando ve l'ho consigliata io e si sono trovate benissimo sono felicissima di questo è senza lattoso è veramente buonissima 2 euro e 49 ragazze secondo me merita assolutamente ultima cosa che vi faccio vedere questo l'ho trovato alla cassa questo lo faccio vedere se magari dovete fare qualche regalino queste questa confezione di di costruzioni a mio figlio mio figlio un appassionato di lego solo ed esclusivamente di lego ok per lui non esistono altri tipi di costruzioni le ne hanno anche regalato però lui è un appassionatissimo di lego secondo me chi è appassionato di lego non riesce a vedere altro però queste costruzioni con questa marca qui che si chiamano cubix le avevamo trovate dal risparmio casa delle scatoline così piccoline a un euro e lui aveva voluto prendere appunto due scatoline un giorno che insomma stavamo facendo la spesa gli avevo detto dai prenditi un regalino aveva scelto quelle e gli erano piaciute molto erano proprio delle scatoline minuscole con dentro appunto i pezzettini da costruire venivano fuori ovviamente delle cose piccolissime e gli erano devo dire che gli erano piaciuti non sono compatibili con le lego ovviamente e quindi ho visto questa scatola che era vicino alla cassa a 4 euro e 90 e gliel'ho presa principalmente perché c'è la navicella spaziale lui è un appassionato e gli dice che da grande vuole fare l'astronauta è un appassionato e di pianeti della luna insomma sta venendo fuori adesso che a cinque anni sta venendo fuori questa passione e quindi mi mancavano ancora un paio di regalini per la settimana prossima per finire il calendario dell'avvento e gliel'ho preso qua ci sono anche gli astronauti non so se riuscite a vederli perché sta facendo riflesso però è veramente veramente carinissima questa confezione c'erano diverse c'era anche quella militare c'era anche quella della polizia è veramente veramente carina e quindi se la trovate all'euro spin per 4 euro e 90 secondo me è un pensierino da fare sia per i vostri bimbi sia per natale sia per il calendario dell'avvento insomma ma mi mancavano proprio le ultime due casellina del calendario il 23 e il 24 quindi per il 23 o per il 24 li farò trovare questo e poi insomma mi manca proprio proprio l'ultima casellina gli ultimi giorni li farò trovare regalini un pochino più sostanziosi ho finito vi ho fatto vedere tutto che cosa dirvi ancora di più niente grazie grazie come sempre per essere qui grazie a tutte le persone che si stanno iscrivendo so che siete tantissime mi state mandando anche dei messaggi carinissimi grazie infinitamente per la fiducia che mi date grazie sempre invece le persone che mi hanno dato fiducia da subito e che sono rimaste questa è credo la cosa più importante se vedere che comunque siete sempre lì mi coccola veramente tantissimo questa cosa vuol dire che che vi piace vi piace quello che faccio vi piace quello che dico vi piace come lo dico sappiate che a me piace sapere che voi siete lì dall'altra parte e mi seguite sempre ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni vediamo se domani riuscirò se non c'è troppa calca a fare un saltino a fare un saltino anche dall'idol vi mando un bacio grandissimo ci vediamo prestissimo prestissimo